Agi momenti tensione questa mattina in alcune aree allagate di Romagna dove sono sorte folle nei centri vaccinazione in cui viene offerta la copertura antitetanica. In Conselice, una città ancora in gran parte sott'acqua, centinaia persone si radunarono per essere vaccinate e si sentivano urla e molte persone anziane soffrivano di aspettare al sole punto intorno alle 10.30 la coda è stata tuttavia eliminata grazie all'intervento dei volontari e degli operatori sanitari Aus Romagna. In effetti, la società sanitaria ha invitato i cittadini a realizzare profilassi in particolare a coloro non hanno mai ricevuto il siero o per coloro che lo hanno fatto più di 10 anni fa.Punto ora ci sono paure non ci siano abbastanza forniture per immunizzare i bisognosi.